Troppe gare da recuperare e così il Covid-19 ferma anche la Serie D. Si tornerà in campo, evoluzione della pandemia permettendo l'ultimo weekend di novembre e in tutta probabilità con un protocollo sanitario rinnovato che preveda l'adozione di tamponi rapidi per staff e calciatori. Dunque spazio ai recuperi, ma non per tutti. Una di queste è la matricola Castelnuovo, una delle poche formazioni che prima dello stop aveva giocato tutti e sei i match in calendario, rivelandosi vera e propria sorpresa di questo inizio di stagione. La formazione terramana ha dimostrato subito di essere gruppo maturo e affiatato, con i senatori in prima linea sempre pronti, nelle fasi difficili della gara, a farsi sentire aiutando i più giovani, soprattutto quelli alla prima esperienza, tanti in un campionato non più regionale. A spendere parole d'apprezzamento per l'avvio di stagione in casa Neroverde è il patron Giancarlo Di Flaviano. È stata una partita molto difficile, Montegiorgio si è visto una squadra molto ben organizzata, faceva girare la palla molto in velocità e forse da oggi dobbiamo ringraziare anche il talento di alcuni nostri giocatori che hanno fatto la differenza. Siamo contenti del nostro avvio, anche perché abbiamo incontrato tutte squadre molto titolate e, tranne forse la parentesi di domenica scorsa a Castelfidardo, penso che abbiamo fatto sempre bene. Ecco, è un giocatore che si vede poco ma si sente. Parliamo di Massimo Loviso, qualità eccellente anche dal lato umano, sa parlare con i ragazzi più giovani, li sa guidare in tutte le parti del campo. Sì, l'Oviso sì, ma si vede anche in campo, nonostante la qualità ma anche quantità, il nostro allenatore in campo per noi è un grosso valore aggiunto, credo è stata una pedina essenziale nella nostra squadra. Tra tutte le difficoltà quanto vi aspettavate questo avvio? Noi ci speravamo, perché comunque abbiamo cercato di fare le cose per bene a livello tecnico, con i vari innesti, quindi diciamo che ci speravamo.